Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannatasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola, code a tratti tra Pistoia e il Vivio per la 1. Sulla Fibili per traffico intenso, code a tratti tra Lastra, Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Sud in uscita in direzione Firenze. A Firenze, per lavori in via della nave di Brozzi, divieto di transito nel tratto compreso tra via dell'Arginsecco e via di Brozzi. Chiudiamo con i treni per un guasso tra le stazioni di Monte Carlo e Alto Pascio. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!